Buongiorno, sono Simona Bernabei, referente pedagogico E-Twinning per la Toscana. Sono qui per presentarvi il nostro nuovo canale YouTube E-Twinning Toscana, in cui i nostri ambasciatori toscani e i twinner di tutta Italia che vogliano partecipare e dare il loro contributo racconteranno in brevi video le loro esperienze come twinner, come docenti esperti di progettazione europea. Condivideranno quindi con voi idee tratte dai loro progetti, buone pratiche, suggerimenti, vi racconteranno esperienze di formazione e esperienze a livello europeo e non. Quindi buona visione, vi aspettiamo, a presto!